a posto a posto ok io faccio il palo voi fate il furto no che è successo ho vinto io dov'è red sono nei vostri incubi peggiori red sei morto e sei diventato un fantasma sono preoccupato perché mi dava 50 euro non niente di più sono una scatola rossa di plastica oh mio dio fuggi fuggi dove è andato a morte la scatola rossa beh non è proprio una scatola in tutta onestà ho trovato il cadavere di red credo sia il cadavere di red ma in realtà era un pezzo di pelle monitor che si muoverò che cacchio è ma che è è una mappa infestata questa ma fotte sega espi me ne vado e non palpare il culo lun lun al nostro rifugio vieni qua abbiamo un rifugio qui no non è un rifugio fammi uscire fammi uscire fotte sega fammi uscire chiudi non si chiude la porta chiudi quella porta chiudi quella porta fotte sega mi rifugio sopra al letto io sotto le coperte vieni anche tu loner oh sei andato nel posto giusto loner no 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 non apre le palle col bagno espi espi riapri arrivo fra poco ma che arrivo fra poco apri quella porca espi non puoi entrare è bagnato per terra oh fuck ci sono cose che si muovono cosa dove? in giardino in giardino in giardino volano proprio stavo guardando le genti no no dove sono? no fotte sega fotte sega uccidela ma che uccidela è una sedia wow no è immortale è immortale ho lanciato la grenata ho l'ho detto la sedia è espi sto per morire tasto destro ah è questo sicuro? ah si era questo ah espi non ero nonna ma come? ma no ma come? sono notato che sono un cadavere donna e non approfitti voglio ricominciare una vita con te redbox dove sei? no ma come? ma mi ha tradito così ma ma come? mi sono reso conto che nessuno ha un microfono grande quanto quello tuo l'ho una cosa? è il mio microfono è bello grande in effetti sono una banana espi espi in bagno espi in bagno mancano 5 secondi espi in bagno ma che? ah io sono con ah oddio dove sei? oddio dove sono? riesco ad entrare nel cestino aspetta aspetta entraci no non riesco ad entrare nel cestino sono un pezzo di carne troppo grande ce l'ho troppo grande il pezzo di carne ah 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 ci siamo divisi tutti quanti dopo non cerca di raggiungerci cerco di arrivare cerco di arrivare non abbiate paura oh vedo gente vedo gente vedo gente piano piano aspetta vieni in cucina eh un attimo ragazzi sono un pezzo di carne vicino ah 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 cosa è successo? ah cosa? ah ah vengo in cucina siete sicuri? io fotte sega non vengo in cucina è via siamo morti noi morirai anche tu ma no 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 guarda mi riciclo da solo ecco qua guarda mi sono riciclato da solo ah piano piano sto ballando un attimino capite che si placa c'ho il parkinson sono un pezzo di carne malata di parkinson no non pensavo che si trasmettessero anche queste malattie a quanto pare si chi ne avrebbe mai detto oh oh sono bloccato aspetta aspetta boink ok non mi ha visto non mi ha visto non mi ha visto posizionati posizionati a posto a posto ok io faccio il palo voi fate il furto ma ca ah 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 no che è successo? ho vinto io? mi sono ammazzato cosa ride Red? Red è partito? perché hai detto io faccio il palo e voi compiate il furto una roba del genere sì beh vabbè vabbè importante divertirsi c'è un pesce rosso incinta nell'altra squadra non sono stato io stavolta non sono stato io c'è pregnant goldfish c'è un pesce rosso incinto eh Espy sicuramente sei stato guardalo l'ho visto? l'ho visto? ho ucciso un pesce incinto era incinto Espy non lo sapevo ti giuro non lo sapevo ok 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 ero il padre dovevo fare un aborto forzato completamente giustificato allora ragazzi ragazzi perché questo questo tavolo c'è una mano? c'è una tavola è quella della famiglia Adams oh dio perché qua c'è il resto del corpo come è che funziona sta cosa non l'ho capita secondo me non c'entra nulla è stato ucciso dagli zuccheri delle bibite esatto diabete c'è che ci sono sedie che volano sedie che volano che succede? ma vabbè ancora sedie che volano? no questa sedia è a posto è a posto non ha niente ogni tanto ci sono sedie che volano sì ma no c'è una di là che si muove cos'è? l'ho vista uccidela ok uccidela no red ma perché si muoveva se non era in vita? tutte scude per dormire sul posto di lavoro chiaramente un'altra che si muove dove? non fargli il funerale mentre ci stanno assaltando gli spiriti espi espi se ne è mosso una di là se ne è mosso una di là guarda guarda che roba ma che cazzo potremmo provare a parlare con gli spiriti red red interagisci con loro dici cosa vogliono dici cosa vogliono sono un po' di guacamole dell'anno scorso ho finito quello dell'anno scorso ehi ehi sono in bagno sono in bagno su un rotolo di carta igienica non usate arriva ezzu e mi ci pulisco con il tuo rotolo di carta igienica aspetta mi è partito un polmone starnutendo c'è vedo ancora il cadavere dell'altra volta bella porca aspetta mi nascondo dentro il cadavere ok in quale bagno sei? io sono in quello degli uomini tu in quale sei? ezzu aspetta che arrivo aspetta che arrivo come sei un monitor salve sono un monitor di quanti pollici? giusto questo è la cosa importante la lunghezza dipende da quanto c'è lungo un pollice ah cioè se tocco un po' il monitor aumentano i pollici giusto ok se lo tocchi mi fanno anche le ditate mi fanno anche un po' schifo dopo pulisco giuro sono un rotolo di carta igienica dopo pulisco sono finito qui aiutami aiutami che fai? che c'è? vabbè guarda che non riesci più a uscire ma si no oh 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 sono bloccato cos'è? com'è arrivato il coso? c'è la paura versi i sotterranei cos'era? ah sei tu venite per favore c'è uno che mi gira in torno e potrebbe sputare oh oh qualcuno non piace la carta igienica a quanto pare avevo troppi pochi strati aspetta aspetta Red tu dove sei nei sotterranei? sei nei sotterranei Red? si guardalo è un monitor sotto il tavolo ti ricordavo più flat screen in tutta sincerità ha messo su un po' di eh si testata e ti sei lasciato un po' andare coi tubi catodici ho una macchiolina davanti mi salti un po' in faccia che così passo ok mi salti un po' in faccia non l'ho mai sentito ho sentito così grazie grazie non come si sta nel mondo dei morti eh insomma un po' un mortorio ma vabbè monitor che salta senza un mino di rispetto ah aspetta Red diciamo che non c'è anima viva diciamo che? non c'è anima viva mi stronzato grazie è uno schienare i rabble d'anno andiamo eh cosa vuoi fare? fermo guarda come si trova una difrenta è ceco è ceco questo è ceco hai visto? non ti ha visto? non ci credo ti ho detto che stare fermo funziona Toy Story Docet ma cosa? Toy Story Quando i giochi si fermano non li vede più nessuno Genio, sei un genio Avete vinto? Avete vinto? Il tipo si è suicidato, non ha resistito all'imbarazzo Di non aver visto Red Buongiorno Stavo arrivando e mi è passato un cono davanti Che poi si è scoperto essere un pesce incinto Ti piace fare le kill facili? Devo fare pipì Ma come devi fare pipì? Sei una donna e va negli orinatoi, ma che schifo Ma che fai? Red, come cazzo fai pipì tu? Con una gamba e sull'altro orinatoio, ma che schifo Mi piace mettere un piede in due stivali diversi In due orinatoi diversi Ah, non sono stivali questi Scusate, ho una salsiccia che mi si dimena davanti agli occhi E non è quello che pensate Cacchio per un secondo Perché c'è ancora la salsiccia che vola, scusate? Non lo so Perché sta spattando in faccia per atterrare Ok, faccio finta di niente Finché non mi si infila negli ore fizi va tutto bene Ori fizi È buco del culo, Red, buco del culo Aia Ma Red muore ogni... Red, dai, devi contenere... Red sei una donna troppo delicata Ah, Madonna, Red Scusa, è vero, è vero È vero, è vero C'è una pianta che è andata al secondo piano, comunque E c'è ancora la salsiccia che mi insegue Aspetta un secondo, aspetta un secondo Se le fissi negli occhi poi sono come i pazzi in autobus Ti seguono fino a casa, capitato C'è le salsicce? Oh, Madonna santa Ecco perché sono vegetariano E la volta che ti seguono fino a casa Approfitta... Guardala, guardala che mi segue Guardala che mi segue Ti giuro, mi sta seguendo la salsiccia Ma che cazzo... Ma che è? Ma che cazzo... Espi, cavami con la salsiccia di torno Sai che sono vegetariano, Cristo? Aspetta, 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 aspetta Oddio, non si calma più Ok, dov'è? Che sta seguendo? Dove è ora? Ok, ma a te va bene, a me fa ansia Dammi sta salsiccia... Oh mio Dio, sti... Dammi sta salsiccia Di solito il discorso è al contrario, Espi Ma vabbè Dove sparo? Sparo qua in un ufficio, fotosega Boom! No, 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 ha funzionato Sparo qui in mezzo No, l'ho funzionato di nuovo Sparo in un ufficio qui Ho uno di vita Non hai più uno di vita No! Ah, ma che due palle Posso diventare il mouse? Mi attacca a diventare il mouse Ho capito il mouse Ah, ah, non posso diventare il mouse Non posso diventare il mouse Ho fatto una cazzata, ho fatto una cazzata Sei diventato un piccio Ok Divento una banana Non mi ha visto, non mi ha visto Non mi ha visto, sono una banana Sono fermo, sono un bellissimo cestino normale Ok, ok Aspetta un minuto Non ti dici di fare un salto dentro di me? Dai No, solo perché sono una... Ah, una volta tanto ci siamo invertiti i ruoli Da quando? Scusa C'è il pesce che avete messo incinta Che non sembra molto felice di vedere Ah, non mi ha visto, perfetto Ok Non l'ho messo incinta io stavolta Come stavolta? No, volevo dire... Niente Detto niente io Aspetta Oh, oh Mi sa che mi ha visto Mi sa che mi ha visto Mi sa che mi ha visto Cambia, cambia, cambia proprio Sono una banana Hai bisogno di potassio Non rompere i coglioni Attaccatela al cassio Danananananananana Danananananana Aia Sono morto Ok, ok, ok Cavoli tuoi Io sono diventato Alla velocità della luce Un rotolo di carta igienica Dove sei? Espi, dove sei? Sto venendo giù? Sono sotto Sono un solito cestino Sfigato di sempre Ho fatto una garanzia Ma è cieco lui È cieco lui Io sono un rotolo di carta igienica Mi si nota lontano un chilometro Ma lui non vede Secondo me ci hanno i cheat Ok, ok No, una bomba Bastardo No Ma cacchio Ti odio No, l'ho visto Ho visto la bomba Ma era troppo tardi ormai Ma che due falle Guarda Red, abbiamo due minuti per vincere Sai qual è il problema Quando fai quelle cose lì? Che poi arriva lo stronzo E ti spacca tutto Vaffanculo Ma sei un bambino vendicativo E io ti rubo la bicicletta Che bicicletta di merda Rega Ah, sì Ci sono dei problemi Te le puoi prendere quelle che vuoi In tutta sincerità Questa è la tua Guarda dove te la metto Lone Guarda Guarda Cosa fai Non fare sonzate Era quella di Espy Era quella di Espy No, la mia bicicletta No, no, no Ah, Red Red Sono venuto a piedi stamattina Allora ti butto a terra sopra No, no, non fare Cosa fai Red No, no, no Lone, ma subito dedicarti all'alcolismo Però così Aspetta Non rompere le pale Esatto Cosa Aspetta Chi è sto secchio? Perché c'è un secchio? Cosa C'è un secchio che sta violentando la mia bottiglia Non 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 Devo dire che un po' mi piace No, ok, facciamo finta di nulla Facciamo finta Red Si è bruciato a morte? Sono bruciato a morte perché avete fatto un incendio maledetti Ma dove? Ma come? Io sto facendo sesso con un secchio Che mi insegue ancora peraltro Ma cos'è sto map? Ma cosa succede? Non so cosa dire perché sono ubriaco Ma come? È già così ubriaco prima di mattina Ma scusa Io sono un professore I professori sono tutti ubriacchi Da prima delle ore Red Red Butta giù la bottiglia Porco cane Basta bere sul lavoro Ce n'è un'altra qua tanto No Red Red Butta giù anche quella bottiglia Basta Non ti preoccupare Guarda Guarda Oh Oh Cos'è che hai fatto? Hai ammazzato Ah No Red È un collasso È stato ucciso dall'alcolismo Te l'ho detto io che prima o poi ci schiattava Red No Che cacchio Cos'è stato? Cosa Cosa Ragazzi voi dite che io ho bevuto Ma voi siete appena stati uccisi da qualcosa che non esiste Ah Si sono morto anche male Guarda il mio braccio come ho messo Ma che cazzo? Quanto polviscolo che c'è in stamattina però Eh oh Espy non ha fatto le pulizie Ho detto Per costa no Che? Ok se voi mi bevete tanto siete già nel posto giusto Wow 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 che è? Le cose stanno muovendo attorno a me Oddio paura loro Espy Non hai chiamato il Ghostbuster Pere 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 Ah ah Mi inseguono Un cazzo di cosa O se stanno muovendo da solo Che cavolo è? No 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 Magari è giusto che dobbiamo Oh aia Mi è arrivata una panca in faccia Ma guarda No 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 Chiudi È pieno di Oh 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 No forte sega io me ne vado Forte sega io me ne vado No 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 Espy io non entro più in sto cazzo di hotel Mi prometti di non uscire dalla stanza? Vedi qualcosa di diverso Ragazzi Ragazzi in piscina sta succedendo cose strane Però non so che cosa tu sia Ragazzi No 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 Io in sto te non c'entro più Non c'entro più T'ho visto? Espy 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 di qua di qua di qua di qua di qua Aspetta Guarda qua i posti Sono un sacco di posti Boink Guarda qua E chiss' aspetta Beh quattro tazze di caffè mi sembrano eccessive Quattro tazze Cinque tazze Ho bisogno di Ho bisogno di tutte queste tazze Espy Perché c'è il coso che si muove? Oh mi piace Aspetta vediamo se riesco a No 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 che ti rompi Sei di porcellana fragile Non darmi della porcellona No ho detto porcellana Sei di porcellona fragile E io sono su un ripiano Espy Non ci credo No copione No 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 che ci rompiamo poi C'è il manico fragile Espy Ricordati Noi hai una certa età ormai Oh 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 Espy credo che ci becchino così Aspetta Vediamo se riusciamo a rovesciare questa cosa Ok ci può fare Ci può fare Ok vai Espy 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 Non si accorgi di niente Espy non ti muovere Espy non ti muovere Metti il rotation lock Non ti muovere Riusciamo a bloccare la porta con questo armato Eh stavo cercando di fare questo Ma c'è un signore qua Ok vai 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 Piano Piano Espy mi dai una mano a spingere Aspetta c'è un signore dentro Attenzione c'è un signore dentro C'è entrato uno Avete chiuso uno dentro Ma è cieco però lui dai Ah 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 Fuggio 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 Mi insegue Aiuto 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 Ah 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 ma che palle Tranquilli Io sono qui Bello pacifico Espy sei una sedia veramente No No Puzzi di culo Te lo dico molto amichevolmente Puzzi di culo Aspetta 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 Eh Guarda No ma era il mio piano quello Maledetto Ecco bravo Espy Bravo Espy un genio Espy ti ha visto Espy ti ha visto No Non ci credo Spiacicato dall'armadio Meglio il suicidio Che cadere nel loro sparco in aria Non ci credo No No Grazie a tutti.